Ciao a tutti, sono Nicoletta Pollini, lui è Samson, il suo nome è Silver Poise Brooklyn ed è un cane che arriva dalla Spagna, è di allevamento di Santiago Montilla ed è con me da circa un paio di mesi, è arrivato in Italia per fare alcune esposizioni lui è un carattere molto dolce, molto affettuoso, in questo momento è stanco già di stare sul tavolo gli piace tantissimo camminare, giocare, saltare, quindi è un cane molto dinamico e ha il carattere, come tutti i terrier appunto, molto vivace e molto festoso lui è arrivato in Italia, starà con me appunto alcuni mesi per fare alcune esposizioni e io spero che diventi anche il papà di alcuni miei cuccioli che nasceranno prossimamente quello che mi piace di lui è il colore tipico dello Yorkie, questo blu acciaio molto intenso e molto setoso e una focatura dorata nelle tre sfumature tipiche della rassa e mi ricorda tantissimo il colore dei metalli preziosi, l'oro e l'acciaio scuro miscelati insieme